potrà sembrare strano ma anche questo è teatro verdi siamo alle noghere in via del canneto 16 e quello che vedete alle spalle mie e del direttore Antonio Tarsca è il laboratorio del teatro verdi sì il laboratorio ma non soltanto laboratorio perché all'interno ci sono gli archivi dei costumi archivi anche dell'amministrazione e tutta una serie di cose che rendono diciamo questo stabilimento un vero e proprio opificio quindi è una parte estremamente importante del teatro verdi intesa proprio come fondazione nella sua complessità e nel suo complesso teatro verdi è una macchina estremamente complicata e i laboratori di noghere sono la parte importante della progettazione della costruzione delle scenografie della manutenzione di scenografie già esistenti che non sono però depositate qui ma presso altri locali situati in via Valmaura